E' una questione di qualità. Una questione di qualità. Una questione di qualità. O una formalità. Non ricordo più bene. Una formalità. Come decidere di radersi i capelli, di eliminare il caffè e le sigarette, di farla finita con qualcuno o qualcosa. Io sto bene. Io sto male. Io non so dove stare. Io sto bene. Io sto male. Io non so cosa fare. Non studio. Non lavoro. Non guardo la tv. Non vado al cinema. Non faccio sport. E' una questione di qualità.